ecco lo! è lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui cazzo sta sdramato, ecco l'acqua è una furia è una cazzo di furia questo ho preso un gigante, ho preso un gigante Dio mio! Dai, sta tornando Sarà dura con questo, molto molto dura No, non, 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 non ok 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 Tiro la lenza come taglia l'acqua 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 Eccolo qua Rotto Adesso vediamo cosa si è rotto Madonna che lotta Treccia? La lenza come taglia l'acqua La lenza come taglia l'acqua Ragazzi la frizione è bloccata Letteralmente bloccata Probabilmente sarà sopra 10 kg Avevo preso un gigante Ma si vede che ancora non era il giorno di realizzare il sogno Quindi va a f***a Eccolo qui Eccolo qui